Pensavo al nostro rapporto con i libri, con il libro, con la lettura, e cioè il tempo di lettura. Cioè come anche il tempo che dedichiamo alla lettura sia in qualche modo cambiato. Ma la percezione stessa del tempo, mi spiego, fino a pochi anni fa, quando avevo un libro da leggere, magari un libro di un certo spessore, di un certo volume, un volume di un certo volume, non avrei saputo quantizzare il tempo che avrei dovuto dedicare a questa lettura. Spesso la prolungavo abbastanza, non sono mai stato uno di quelli che legge un libro in due o tre giorni. Stava sul comodino, poi si leggeva a tratti, poi a tratti qualche sera cominciavo a leggere, avevo sonno. Poco tempo magari trovavo dopo, durante la giornata, c'erano altre cose da leggere, molto spesso tante cose da fare. Questo soprattutto durante il periodo del lavoro. E quindi sapere quanto durava la lettura di un libro era una cosa che non era possibile. Si sapeva quante pagine aveva. Quindi quando si misurava, diciamo così, si cercava di dare una misura a questo tempo che avremmo dovuto dedicare all'uso di quell'opera, al consumo, ma il consumo in senso positivo, si valutava il numero delle pagine. Ho letto un libro di 300 pagine, ma scritte fitte, fitte. E quindi, insomma, così si aveva una dimensione molto vaga, imprecisa. Poi cambiava anche il tempo che si dedicava, insomma, restava nel vago. Se io avessi dovuto dire soltanto vent'anni fa quanto tempo poi alla fine ho dedicato a leggere che so io il Conte di Monte Cristo, i miserabili, non avrei saputo dirlo abbastanza tempo. Adesso invece questo rapporto è cambiato. E forse anche grazie all'ebook reader, e forse anche proprio agli audiolibri. Nel senso che adesso quando usiamo un prodotto culturale, lo compriamo, o lo guardiamo attraverso proprio questo mezzo, attraverso YouTube, la prima cosa che guardiamo è la durata. Se io ascolto una sinfonia, la prima cosa che vedo sul CD è la durata, e la prima cosa che vedo, per esempio, sul video di YouTube è il tempo, quanto dura. Finalizzo già il mio tempo di lettura e lettura a quel dato, tempo. Quanto tempo ho a disposizione, sono in grado di leggere una cosa che dura 5 minuti, o di ascoltare una cosa che dura 5 minuti. E quindi quella cosa dura 5 minuti. E la rapporto al tempo che ho a disposizione per fare questo, per usare questo. E mi viene in mente che questo parametro una volta non l'avevo. Vedevo qui su Facebook l'altro giorno che una scriveva a proposito della sua lettura dei fratelli Caramanzo, che è talmente grosso questo libro, che lei leggeva per alcune ore per poter vedere la tacchetta che c'è in fondo e che indica in percentuale quanto si avanza nella lettura di un libro e questa tacchetta si muoveva di un 1, massimo 2%, cosa che invece quando si legge un libro breve, insomma, questa tacchetta avanza abbastanza velocemente. Quindi è un altro parametro. Quanto in percentuale abbiamo letto in un'ora o in due ore? E io stesso, per rendermi conto su quanto tempo avrei dovuto dedicare per leggere interamente questo libro, i fratelli Caramanzo, non riuscivo ad avere in testa, insomma, quanto tempo durerà o dovrei dedicare, poi se ne dedica almeno 3-4 volte di più, perché ovviamente bisogna riascoltare, insomma, correggere, sistemare, fare tante cose. Quando si fa poi tutto da soli, insomma, il tempo vero che si dedica a fare una cosa non si conta. Ma il tempo di lettura effettiva di queste mille pagine, più o meno, insomma, secondo le edizioni, insomma, che è i fratelli Caramanzo. Quanto è il tempo? Il parametro che ho trovato è stato quello di vedere, a un certo punto, che ho trovato una lettura in vendita, non so di chi, insomma, ma ho trovato la pubblicità, e non so neanche se è integrale, ma insomma ho trovato la pubblicità di un audiolibro dei fratelli Caramanzo, in cui la lettura dura, mi pare di aver capito un qualcosa come 45-47 ore, 45-47 ore, adesso non ricordo bene, ma insomma siamo su quest'ordine di grandezza. Quindi mi sono detto, ah, ecco, alla fine, insomma, il libro Fratelli Caramanzo richiede, per essere letto, ad alta voce, 45-47 ore, insomma, e ho avuto un parametro. E il fatto di vedere quel libro e di associare di 47 ore di lettura, facciamo che siano 47, mi ha fatto dire, ma toh, si legge anche in fretta un libro così, pensavo a di più, pensavo che ci volesse più tempo a leggere così, perché ero abituato a leggerlo magari in tempi frazionati, e quindi magari ci mettevo, ci avrei messo una volta, un mese, due mesi, tre mesi, e quindi non sarei riuscito a calcolare il tempo reale. Anche la nostra percezione del tempo sta cambiando i nostri comportamenti. Vedevamo l'oggetto, senza porci il problema di quanto questa cosa avrebbe, di quanto questa lettura, per esempio, avrebbe sottratto al nostro tempo. Adesso, invece, ho l'impressione, e che questo lo facciano anche gli altri, che la prima cosa che si guarda è quanto dura, non più la qualità di quello che si va a leggere o a guardare, ma dura un'ora, no, non ce la faccio, non ho voglia di dedicare un'ora, anche se una cosa è bella, vale la pena, insomma, è troppo, non ho da fare altro. Il parametro tempo, ma tempo è proprio come durata, misurata, ce l'abbiamo continuamente davanti e condizionano un po' con le nostre scelte. Possiamo vederlo anche proprio nei mass media, no? Quanto dura un video? Se un video dura più di cinque minuti, beh, insomma, no, bisogna concentrare tutto e quindi bisogna essere brevi, stringati, non si può essere prolissi, non si può parlare troppo, insomma, perché altrimenti non ti ascoltano, quindi non si può approfondire, insomma, no? Ed è lo stesso discorso che vale poi per la comunicazione, anche in televisione, che sia da qualsiasi parte, per cui nessun discorso può essere sviluppato, no? Bisogna essere sintetici, si hanno dei tempi brevissimi, perché sennò la gente si annoia. Allora questo tempo adesso è diventato fondamentale, cosa che non lo era. E questa per me è una mutazione, una piccola mutazione, ma insomma è il sintomo di una mutazione in cui sembrerebbe che il tempo fosse diventato una cosa così grande, così essenziale nella nostra vita e che quindi sapessimo usare il tempo in maniera assolutamente costruttiva, formativa, insomma, che il tempo servisse veramente a cosa? A fare soldi? Oppure a scegliere tra le attività possibili quella che ci è più redditizia, oppure più congeniale, quella che ci dà più soddisfazioni, più gratificazioni? Allora a questo punto dovremmo essere tutti molto felici, ma in realtà non lo siamo. In realtà ci troviamo che il tempo poi alla fine lo usiamo male, e allora io mi guardo attorno qualche volta, perché cerco anche di dedicare del tempo a fare delle cose che sono inutili dal punto di vista pratico, della produttività. Insomma, ho tempo adesso e lo consumo magari a fare queste cose, a fare anche queste chiacchierate con voi. qualcuno potrebbe dire che lo butto via, no, che spreco il mio tempo, potrei fare qualcosa di meglio, ma io magari qualcosa di meglio non lo so fare, non mi viene in mente, non voglio neanche di percepirlo, no, non è che faccio solo queste cose, ma insomma faccio anche queste cose, e quindi ho tempo. spesso se mi chiedono qualcosa, un contributo, una partecipazione, il tempo lo trovo, e di solito mi rendo disponibile a fare cose che non hanno nessuna valenza in termini economici o produttivi, ma sono delle cose che magari mi piace fare, ma il tempo lo trovo se voglio. Se invece voglio fare qualcosa con altri o chiedo ad altri delle cose, mi sento dire che non hanno mai tempo. Bisogna prendere appuntamenti, andare a distanza, ti dicono ti chiamerò, poi non ti chiamano, non c'è mai tempo. Passano mesi prima che uno, ma non c'è mai tempo neanche per fare delle cose che possano essere gratificanti, insomma per coltivare insieme con altri delle attività, degli hobby, delle cose anche ricreative, non lo so. E soprattutto nei giovani, nei ragazzi, pare che non ci sia mai tempo, ma anche lo vedo con i miei figli, non hanno mai tempo. E poi ti chiedi, ma che cavolo fanno? Alla fine cosa ne risulta del loro tempo? Come lo usano? Cosa fanno? Cosa concludono? Quindi, insomma, questa gente che lavora sempre, che non ha mai tempo, poi alla fine ti immagini che sarà chi farà in modo che non le mancherà niente, che andrà dappertutto, che farà di tutto, non lo so. Sta di fatto che poi, al lato pratico, vedi che non hanno costruito granché nella loro vita, cosa si sono formati di se stessi in tutto questo tempo che hanno dedicato a non so che cosa, non ci trovi granché. Parlo in generale, in modo generico, non è così per tutti, evidentemente, no? Quello che è il fenomeno è che non c'è mai tempo, gli altri li trovi sempre indaffarati. E poi, quando vai a chiederti, ma allora, cosa concludono in tutto questo tempo che dedicano a fare cose, senti che non trovi granché. Ma, insomma, sembra quasi di moda non avere tempo per fare altro. Insomma, trovare un'ora alla settimana per un'attività culturale, per esempio, diventa quasi un'impresa, insomma, no? E allora trovi che le generazioni, soprattutto le più giovani, non ci sono mai. I giovani non ci sono mai. E i rapporti tra le generazioni si allontanano. Vecchi da una parte, giovani dall'altra. e i rapporti tra le generazioni Grazie.